Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove ci sono code per lavori tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione Pisa. Rampa di accesso chiusa per lavori in entrata a Livorno Porto in direzione Firenze. Uscita chiusa a Ginestra Fiorentina provenendo da Firenze. Sbostandoci in A1 chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Bologna. Sulla statale 1 Aurelia in direzione Sud uscita chiusa per lavori a Rosignano Marittimo e svincolo chiuso sempre per lavori a Gavorrano. Sulla statale 3 Vistiverina tratto chiuso per lavori tra Pieve Santo Stefano Sud e Madonnuccia Poggiolino in direzione del raccordo Viterbo Terni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!